Doveva andare a comprare urgentemente delle medicine, così si era giustificato una 34enne di origini nigeriane, sorpreso dagli agenti della polizia di stato fuori dalla propria abitazione, nella quale invece sarebbe dovuto rimanere confinato agli arresti domiciliari. Adesso per l'uomo si sono così aperte le porte del carcere a retino di San Benedetto. L'uomo, con una lunga lista di precedenti alle spalle per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato catturato ieri dagli agenti di polizia in pieno centro storico a retino nel quartiere di Porta Crucifera. Nei suoi confronti è stata infatti eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, una misura che si è resa necessaria dopo che lo scorso martedì il 34enne era evaso dai domiciliari ed era stato colto in flagranza dagli agenti della squadra volante a diversi chilometri dalla propria abitazione nel centro a retino, nonostante l'obbligo di permanenza in casa dove invece aveva lasciato i due figli entrambi minorenni. Il pusher era stato così bloccato in via alle mecenate dopo un breve inseguimento. Il questore di Arezzo aveva chiesto l'aggravamento della misura cautelare. Adesso il pluri pregiudicato attenderà l'esito dei processi a suo carico, tutti per spaccio anche di rilevante entità nella casa circondariale di Arezzo.